È un bilancio in pareggio, quello del 2019, relativo alla produzione di salumi piacentini di OP, che vede sostanzialmente confermato a livello complessivo il dato dell'anno precedente. A una crescita di poco più del 9% del salame, infatti, corrisponde un equivalente calo della coppa, mentre la produzione di pancette è rimasta sostanzialmente invariata. La tenuta dei consumi dei prodotti di OP piacentini spiega l'Istituto Salumi Italiani Tutelati, ovvero l'Associazione di Riferimento dei Consorzi di Tutela dei Salumi di OP e IGP, si ripercuote positivamente sull'intera filiera fortemente legata al territorio piacentino, che comprende circa 2.000 occupati, dagli addetti all'allevamento fino agli agenti di vendita. Dati confermati da Antonio Grossetti, presidente del Consorzio Salumi di OP piacentini. Si conferma una tendenza abbastanza stabile, quindi per noi va bene, adesso ci stiamo investendo anche molto. Il fatturato alla produzione del mercato dei tre salumi di OP piacentini è di circa 30 milioni di euro sul mercato italiano. Ad oggi il Consorzio associa 11 imprese tra le più importanti del settore. Dal 2000 al 2019 la produzione è notevolmente aumentata, più 600% per la coppa, 1000% per la pancetta e 465% in più per il salame. Il mercato ha vissuto ora una forte flessione dovuta al lockdown del periodo Covid. A parte l'affettamento che è andato molto bene, il libero servizio purtroppo ha sofferto. Ora l'obiettivo è ritornare almeno ai volumi precedenti ed incrementarli. Speriamo di darci per il futuro sicuramente un incremento. I nostri associati comunque ci credono, stanno investendo un po' tutti. Grazie. Grazie.